Come identificare i punti di regolazione dei modelli I-20? Ci sono quattro diverse aree da identificare per le regolazioni dei modelli I-20. L'I-20 è dotato di una vite di ritenzione dell'ugello e di regolazione di raggio. È dotato di uno slot per il sollevamento del pistone. È dotato di una regolazione dell'arco. Ha anche la possibilità di chiudere l'acqua e di riaprirla. Regolazione dell'arco. L'irrigatore viene fornito preimpostato a 180 gradi. Per regolare l'arco, inserire la chiavetta di regolazione e ruotarla in senso antiorario per ottenere un arco minore, più vicino ai 90 gradi. e in senso orario per aprire l'arco verso i 360 gradi. Per alzare il pistone, inserire la chiavetta di regolazione nella slot, dare un quarto di giro e sollevarlo fino a vedere l'ugello. Con la vite di regolazione del raggio, utilizziamo il punto di ritrazione. Possiamo rimuovere la vite per accedere all'ugello. Poi possiamo riavvitarla per fermare l'ugello in posizione. Per arrestare il flusso dell'acqua, inseriamo la chiavetta nel punto centrale della parte superiore della turbina e giriamo in senso orario. Ruotando la chiavetta in senso anti-orario, riapriamo l'acqua. Per questi e altri prodotti Hunter, visitare il sito www.hunterindustries.com slash gethunter